Una discarica abusiva di oltre 6.000 metri quadrati è stata sequestrata dai carabinieri di Palermo nel popolare quartiere Zen 2. All'interno dell'area è stata accertata la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi. Due persone sono state denunciate. Le immagini realizzate dai militari dell'arma hanno evidenziato che la zona era parzialmente recintata e in parte adibita a discarica di materiale di risulta. Due piccoli scavatori erano utilizzati dagli indagati per accumulare e poi spianare i rifiuti. I carabinieri sono riusciti a rilevare il progressivo riempimento dell'area confrontando le immagini contenute nei database del software Google Earth con quelle delle ricognizioni aeree.